Qualche settimana fa le manifestazioni organizzate a Campobasso e di Sernia davanti alle prefetture per richiamare l'attenzione del Governo centrale e della Regione sullo stato di crisi pesantissima in cui si trova l'agricoltura molisana. Non avendo ricevuto risposte, col diretta è tornata alla carica, sollecitando in questa occasione l'intero Consiglio regionale affinché in sede di approvazione del bilancio di previsione provvede a mettere in campo le risorse da destinare al comparto agricolo e zootecnico perché la situazione è tale da costringere un'azienda su dieci a chiudere i battenti. A lanciare l'allarma il direttore di Coldiretti Molise, Agnello Ascolese, che ha ricordato come il dato molisano non discosti di molto rispetto a quello nazionale dove un terzo delle imprese è costretto a lavorare in una condizione di reddito negativo. Alla base della gravissima crisi l'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime provocato prima dalla pandemia e poi dal conflitto in Ucraina. Secondo l'analisi Coldiretti su dati Crea, ha spiegato Ascolese, stiamo assistendo ad un vero e proprio tsunami che si sta battendo sulle aziende agricole con rincari per gli acquisti di concimi, imballaggi, gasolio, attrezzi e macchinari. Nelle campagne, aggiunto, si registrano aumenti dei costi che vanno dal più 170% dei concimi o più 90% dei mangimi, fino ad un più 129% del gasolio. Ad essere penalizzate sono proprio le coltivazioni di cereali, grano e mais a causa dell'aumento esponenziale dei costi per il gasolio, ha ricordato il direttore Coldiretti, che poi ha anche sottolineato come a peggiorare un quadro già estremamente drammatico, si è intervenuta l'emergenza cinghiali che stanno distruggendo raccolti, foraggi indispensabili per alimentare il bestiame. Ed anche su questo problema la Coldiretti chiede l'intervento immediato della regione con lo stanziamento dei fondi per risarcire i danni provocati alle aziende agricole ormai in ginocchio.